Capitolo 21 E quando furono vicini a Gerusalemme e furono giunti a Beffage, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro, Andate nella borgata che dirimpetto a voi, e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa, scioglieteli e menatemeli. E se alcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno, e subito li manderà. Or questo avvenne, affinché si adempisse la parola del profeta, dite alla figliuola di Sion, Ecco, il tuo re viene a te mansueto e montato sopra un'asina e un asinello, puledro d'asina. E i discepoli andarono, e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Menarono l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli, e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, ed altri tagliavano dei rami degli alberi, e li stendeano sulla via, e le turbe che precedevano e quelle che seguitavano, gridavano Osanna al figliuolo di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa, e si diceva, Chi è costui? E le turbe dicevano, Questi è Gesù, il profeta, che è da Nazareth di Galilea. E Gesù entrò nel tempio, e cacciò fuori tutti quelli che qui vi vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiamonete, e le sedie dei venditori di Colombi. E disse loro, Egli è scritto, La mia casa sarà chiamata casa adorazione, ma voi ne fate una spelonca di ladroni. Allora, vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi, ed egli li sanò. Ma i capi sacerdoti e gli scribi, vedute le maraviglie che aveva fatte, e i fanciulli che gridavano nel tempio, Osanna al figliuolo di Davide, ne furono indignati, e gli dissero, Odi tu quello che dicono costoro? E Gesù disse loro, Sì, non avete mai letto, Dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti, Ai tratto lode? E lasciateli, Se n'andò fuor della città a Betania, Dove albergò. E la mattina, Tornando in città, Ebbe fame, E vedendo un fico sulla strada, Gli si accostò, Ma non vi trovò altro che delle foglie, E gli disse, Mai più in eterno non nasca frutto da te. E subito, Il fico si seccò, E i discepoli, Veduto ciò, Si meravigliarono, Dicendo, Come se, In un attimo, Seccato il fico? E Gesù, Rispondendo, Disse loro, Io vi dico, In verità, Se aveste fede, E non dubitaste, Non soltanto fareste quel che è stato fatto al fico, Ma se anche diceste a questo monte, Togliti di là e gettati nel mare, Sarebbe fatto, E tutte le cose che domanderete nella preghiera, Se avete fede, Le otterrete. E quando fu venuto nel tempio, I capi sacerdoti e gli anziani del popolo, Si accostarono a lui, Mentre gli insegnava, E gli dissero, Con quale autorità, Fai tu queste cose? E chi ti ha dato codesta autorità? E Gesù, Rispondendo, Disse loro, Anch'io vi domanderò una cosa, E se voi mi rispondete, Anch'io, Vi dirò, Con quale autorità faccio queste cose? Il battesimo di Giovanni, Donde veniva? Dal cielo, O dagli uomini? Ed essi ragionavano fra loro, Dicendo, Se diciamo dal cielo, Egli ci dirà, Perché dunque non gli credeste? E se diciamo dagli uomini, Temiamo la moltitudine, Perché tutti tengono Giovanni per profeta? Risposero dunque a Gesù, Dicendo, Non lo sappiamo, E anche gli disse loro, E neppur io, Vi dirò, Con quale autorità, Io fo queste cose? Orche vi pare egli, Un uomo avea due figliuoli, Accostatosi al primo, Disse figliuolo, Va oggi a lavorare nella vigna, Ed egli rispondendo, Disse, Vado signore, Ma non vi andò, E accostatosi al secondo, Gli disse lo stesso, Ma egli, Rispondendo, Disse, Non voglio, Ma poi, Pentitosi, Vandò, Qual de due fece la volontà del padre? Essi gli dissero, L'ultimo, E Gesù a loro, Io vi dico in verità, I pubblicani, E le meretrici, Vanno innanzi a voi, Nel regno di Dio, Poiché Giovanni, È venuto a voi, Per la via della giustizia, E voi, Non gli avete creduto, Ma i pubblicani, E le meretrici, Gli hanno creduto, E voi, Che avete veduto questo, Neppur voi, Vi siete pentiti, Per credere a lui. Udite un'altra parabola, Vi era un padron di casa, Il quale piantò una vigna, E le fece attorno una siepe, E vi scavò un luogo, Da sfremere l'uva, E vi edificò una torre, Poi, L'allogò, A dei lavoratori, E se ne andò in viaggio. Or, Quando fu vicina, La stagione dei frutti, Mandò i suoi servitori, Da lavoratori, Per ricevere i frutti, Della vigna. Ma, I lavoratori, Presi i servitori, Uno ne batterono, Uno ne uccisero, E un altro, Ne lapidarono. Da capo, Mandò degli altri servitori, In maggior numero dei primi, E coloro, Li trattarono, Nello stesso modo. Finalmente, Mandò loro, Il suo figliuolo, Dicendo, Avranno rispetto, Al mio figliuolo. Ma, I lavoratori, Veduto il figliuolo, Dissero fra di loro, Costui, E l'erede, Venite, Uccidiamolo, E facciamo nostra la sua eredità. E presolo, Lo cacciarono fuori dalla vigna, E l'uccisero. Quando dunque sarà venuto il padron della vigna, Che farà egli a quei lavoratori? E se gli risposerò, Li farà perir malamente, Cotesti scellerati, E allogherà la vigna, Ad altri lavoratori, I quali, Giene renderanno il frutto, A suo tempo. Gesù disse loro, Non avete mai letto, Nelle scritture, La pietra, Che gli edificatori, Hanno riprovata, È quella, Che è divenuta, Pietra angolare. Ciò è stato fatto, Dal Signore, Ed è cosa maravigliosa, Agli occhi nostri. Perciò, Io vi dico, Che il regno di Dio, Vi sarà tolto, E sarà dato, Ad una gente, Che ne faccia i frutti. E chi cadrà su questa pietra, Sarà sfracellato, Ed è la stritolerà, Colui sul quale cadrà. E i capi, I sacerdoti, E i farisei, Udite le sue parabole, Si avvidero, Che parlava di loro, E cercavano di pigliarlo, Ma temettero le turbe, Che lo teneano per profeta. Che soffi, E in tutti, che lo tenea, Ed è la str Honda, Grazie a tutti.